Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui a questo nuovo episodio delle vostre classi di prestigio oggi porto una classe estremamente focalizzata su un singolo aspetto e la prima è da qui, perfetto arcanista e sto parlando del dominatore mentale questa classe di prestigio il nome spiega praticamente tutto è qualcuno che si interessa del manipolare la mente del controllare e del diciamo il dominio su questo ambito come classe di prestigio diciamo a livello narrativo è molto semplice a livello di statistiche mi è piaciuta perché hanno voluto diciamo spaziare parecchio non gli da solo capacità per il controllamento mentale ma gli da anche capacità sulle abilità sociali il che ci sta perché come manipolatore non è solo con gli incantesimi ma anche con i suoi doti diciamo carismatiche e personali il che mi è piaciuto, mi è piaciuto veramente andiamo a vedere cosa apprende questa classe intanto è un incantatore quindi da 4 sulle rivietà abilità 2 per intelligenza tiro per colpire basso bello che hanno messo tiro di salvezza buoni cioè tempo e volontà come il chierico che gli da un piccolo punto in più se nel classico di prestigio ci sta che deve essere un po' sopra le righe come classi l'avrei avuto media niente di eccezionale però ha capacità molto carine i requisiti ovviamente sono molto specializzati quindi ti ci concentri molto su questa classe il primo che a me piace molto allineamento qualsiasi non buono un manipolatore, una persona che sfrutta diciamo proprio abusa degli altri a livello mentale non è una persona buona ci sta che non per forza siamo al value usa il tutto per i suoi fini e qui c'è un'altra cosa che mi piace le abilità c'è tante abilità sul sociale per poter fare questa classe di prestigio di spendere tutti i tuoi gradi o almeno tanti gradi su abilità a livello sociale diplomazia 4 gradi intimidare 4 gradi percepire le intenzioni 4 gradi reagire 4 gradi cioè capite abilità anche magari un po' rindondanti cioè tutte le abilità sociali però ci sta cioè tu ti focalizzi solo su quello incantesimi insistono molto che tu devi saper lanciare ovviamente charme, charme, super sole e incantatore o capacità magiche come diciamo incantatore arcano di quinto livello quindi ti danno possibilità anche di essere un mostro per fare questa classe di prestigio basta creare il cantatore di quinto livello con capacità magiche quelle sopra rincate e puoi diventare un diventatore mentale sono dieci livelli in cui intanto ti smezzano la classe di incantatore cosa che mi avviso ci sta perché le capacità sono sostanziali ripeto è focalizzata solo su quello quindi a me come questo personale sapete non piace moltissimo però capisco l'utilità capisco l'interpretazione se uno vuole fare solo quello cioè questa classe ti dà tutti gli strumenti e qualcosina in più al primo livello per una capacità fortissima la telepatia a 30 metri la telepatia a 30 metri puoi parlare con chiunque 30 metri è tanto infatti hanno veramente raggi molto ampi su questa classe ci sta perché sacrifica parecchio 30 metri capite qualcuno è sciarmato illuminato gli mandi comandi direttamente mentalmente nessuno ti sente nessuno sa che lo stai comandando e il tutto funziona il tutto funziona poi oltre ad altra utilità con il gruppo comunicare senza dover parlare cioè la telepatia è molto forte il poter suggestionare i contadini facendo sentire le voci cioè veramente narrativamente telepatia ti crei tantissimo gioco è forte al secondo livello plagia della mente debole sta capacità una volta al giorno è una suggestione più potente perché raggio 30 metri dura parecchie ore e il trio salvezza ovviamente è fisso dato da un valore che è di qui comincia a regalare capacità sul dominare mentale è ovvio è scontato cioè fa questo e è bello è bello perché diciamo limitato a certe creature ma forte forte parecchio diciamo performante magari tra i pochi incantesimi ma non devi prendere tutti gli ammaliamenti perché la classe ti dà altri capite che sto intendo cioè focalizzato sì ma ti dà sempre una possibilità di poter spaziare un po' ampio al secondo livello la capacità che più a me piace di questa classe molti altri rende inutili secondo me è bellissimo il potenziamento della vita cioè lui adesso in poi attua a metà del suo livello a tutte le prove di diplomazia intimide per superintenzione da girare tutte quindi capite agli acimi livelli un più 5 a tutte queste prove che in realtà fa ridere a livelli alti magari fa ridere ma capite se tu ci vetti tutti i gradi c'hai il carisma un altro più 5 magari non sei focalizzato non c'hai altri oggetti magici che ti riempi di oggetti ti aumenti anche l'abilità questo fisso è un bonus fisso suo che si cumula tutto e che lo rende il signore del sociale è carino è carino è veramente carino specialmente come PNG che dà un motivo per cui magari è così tra virgolette carismatico quella persona ma in realtà non è carismatica è brava a parlare ci fai tanto gioco ci fai tanto gioco al terzo livello lettura del pensiero aumenta perché ovviamente la prendeva anche prima mi sembra no no al terzo livello due volte al giorno parte direttamente con due volte al giorno la capacità di leggere i pensieri di un'altra creatura capite quanto è forte c'è dura parecchio mi sembra che c'è dura addirittura minuti quindi tu ti concentri leggermente i pensieri superficiali però un membro del gruppo una tua creatura illuminata lo fa parlare ti dà fuori l'argomento e tu stai leggendo il pensiero sai cosa sta trattando o magari tu stesso stai parlando di qualcosa e leggi il pensiero e sai quello che vuoi sai ti dice ti mente sai dice la verità cioè il lettore del pensiero è estremamente forte di solito infatti sono in tantesimi con cd infime anche qui in questo caso cd base bassa però capite che quando entra tu sai cose che non dovresti sapere entri nella sua mente cioè lui non se ne rende conto e strapo le informazioni sempre imitato dei pensieri superficiali sì ma per farli venire fuori basta dirglielo cioè è automatico lui gli viene in mente e non si aspetta che sta leggendo la mente non è che si concentra per non pensare tutto ovviamente c'è a interpretazione del master e del giocatore però io reputo letteralmente uno strumento molto forte molto forte al quarto livello lo charme eterno la capacità chiave della classe in cui tu charmi una creatura con dei requisiti diciamo dei paletti perché è molto forte questa capacità e niente è il 2% ricordo che è uno charme quindi non è una dominazione lui ti reputa il suo migliore amico scusa magari può agire nel bene e nel male in base alla creatura che stai dominando se una creatura è stupida è molto meglio perché essendo stupida pensi di semplice tu lo manipoli sempre capite perché serve tantissime abilità sociali perché a livello di gioco giocando una persona charmata non è sotto il tuo diretto controllo lo devi ogni volta convincere abbonire intimidire per calmarlo è il tuo migliore amico basta te scegliere come trattarlo lo puoi trattare anche male lui ti vorrà sempre bene ma tu lo puoi trattare anche male puoi essere anche crudele capite che da dominare a charm ha vantaggi e svantaggi perché una creatura dominata fa solo quello stupidamente quindi può anche sbagliare l'ordine cadere in errore una creatura la charmata nel limite la sua intelligenza può fare tante cose se è molto intelligente si deve stare attento devi essere bravo perché potrebbe anche diciamo intuire qualcosa magari l'incantesimo non lo prevede ma perché no dopo tanto tempo se ci sa degli indizi magari fa uno più uno e si potrebbe spezzare l'incantesimo comunque queste sono le mie opinioni è gioco di ruolo ognuno lo gioca come vuole charm a me piace piace perché ha tanto spazio forse ne toglie troppo al gioco stesso però è sempre stato un bel l'incantesimo al quinto tragiare la mente debole due volte al giorno al sesto il secondo charm eterno puoi avere due creature charmate eternamente questa capite quanto è forte ti fai un seguito ti fai un gruppo cioè è forte è forte si possono ovviamente spezzare questi charm ma rip coleto non tutti sanno e forse non lo sapranno mai non lo devono sapere se no sei in svantaggio che sei un dominatore mentale solo un altro incantatore lo può vedere lo può capire e deve ovviamente starli a controlli a quelle sotto charm certo basta una vista arcana basta anche la stessa indirazione del magico vedo un effetto di ammaliamento attivo chissà che sarà ma comunque capite che il segreto l'inganno cioè il sotterfugio è un'arma molto utile al dominatore mentale dopo certo c'è chi lo sbandita ai 420 lo usa come strumento di paura cioè tutti a puoi deve essere terminati mentalmente non è una cosa che diverte infatti lo per tormentare cattivi possono fare cose veramente brutte comunque sempre al test livello incantesimo elemento potente più 2 questo è carino perché come una capacità di arcimago ti aumenta il livello di incantatore più 2 agli ammaliamenti quindi per superare resistenza degli incantesimi per le durate per le risoluzioni sei più forte non ti aumenta le cd ma ti aumenta tutto il resto è forte più 2 subito più 2 è forte al settimo dominare il lettore del pensiero 4 volte al giorno quindi ormai il lettore del pensiero ce ne abbiamo anche troppe 4 volte al giorno è tanto e il dominare la capacità di dominare è una creatura per 24 ore così c'è o ti ha salvezza o sei dominato sempre rispettando i paletti che ti dà il manuale i limiti forti forte forte perché dura solo 24 ore ma dopo magari la allunghi la cambi 24 ore è tanto 24 ore è il giorno se la fai a mezzogiorno dura fino a mezzogiorno il giorno dopo hai tutto il tempo di rimemorizzare rifarlo rifarlo e continuare le tue avventure magari lo rifare la sottisaccatura perché sono 24 ore il tuo riposo è 8 ore capite che intendo magari già ce l'avevi e poi continuare questo divertente trucco è tutto lecito è fatto a posto da 24 ore ottavo livello la terza creatura legata eternamente e siamo già a 3 per agiare la mente 3 volte al giorno quindi 3 suggestioni capite quanto ammalamento ha gratuitamente e basta andiamo al nono il nono è l'unico livello che non prende nulla che ci sta a un livello vuoto tra nessuno livello di incantatore l'ultimo livello di incantatore è aumentato della classe perché al decimo c'è l'esploit tutte capacità del decimo l'hanno fatto proprio per farti fare il nono lo sciamo eterno 4 la quarta e l'ultima creatura incantissimo elemento potenti 4 quindi 4 livello sopra al tono livello di incantatore che ti compensa quello che hai perso quasi è schiavitù tu scegli una creatura e ha dominazione permanente meno che non la spezzano con altri effetti la diciamo la esplorare lo dominatore mentale quello che tutti ci aspettavamo capacità più forte ovviamente della classe e giusto che sia una capacità di decimo una creatura per sempre sotto il tuo dominio totale incondizionato con i soliti limiti limiti del dominare che dire una classe di prestigio pericolosa affascinante a chi piace il ammaiamento tutta focalizzata su quello campagne contro i non morti campagne contro le mentali tutto ciò non funziona limitata ovviamente capite ma sugli altri aspetti è devastante è devastante tu veramente in uno scontro trasformi il nemico in un alleato cammi le carte in tavola cioè già sciarmare qualcuno in combattimento gli fai perdere il round o mandi in confusione che vedi amici combattono amici capite magari non sa bene come reagire e già guadagni vantaggio in quel combattimento che cosa altro dire io ovviamente la consiglio a chi gli piace questo aspetto ringrazio chi me l'ha consigliata perché è una classe che conoscevo ma avevo sempre un po' snobbato perché ripeto le classi focalizzate solo su un aspetto mi fanno sempre stracciare il naso però rileggendola ho capito che quell'aspetto l'hanno ampliato gli hanno dato abilità proprio abilità nel senso i gradi di abilità di utilizzare il sociale ha tantissimo spazio ha tantissimi modi di essere giocata a livello anche di morale e allineamento quindi io voglio sapere la vostra opinione su questa classe come sempre la condivisione e mi piace il commento che aiuta a calare a crescere fatemi sapere la vostra ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti